take me out carta bianca boss in incognito primo appuntamento roma 3 1 3 1 a gabriele corsi del trio medusa il lavoro in tv e in radio di sicuro in questo periodo in questa settimana in particolare non manca funwick lo ha intervistato in occasione della partenza della quinta stagione di boss in incognito da venerdì 2 marzo su rai 2 della seconda stagione di primo appuntamento da mercoledì 28 febbraio su real time e della puntata speciale di take me out giovedì 1 costantino della gherardesca contro l e lucarelli sui social ecco cose è successo attualmente sei l'uomo più impegnato della televisione italiana in tutto ciò continui anche a carta bianca dove oggi sarà ospite vittorio sgarbi che sarà accolto dall'intero trio medusa ndr giusto sarà la concomitanza delle partenze dei programmi ma sarà anche che tu sei il più televisivo del trio medusa il fatto che in una settimana ti vedremo in almeno quattro programmi tv diversi rischia di penalizzarti carta bianca programma al quale tu dai un apporto circoscritto perde puntualmente la sfida degli ascolti con di martedì eppure le difficoltà del programma della berlinguer sembrano non essere particolarmente sottolineate sui giornali come invece accadde per politics di semprini tu che ci lavori dall'interno hai la sensazione che la trasmissione fatichi a ingranare l'intervista continua nel video in apertura di articolo